Volodia Una domenica estiva, verso le 5 del pomeriggio, Volodia, un giovanetto di 17 anni, non bello, malaticcio e timido, era seduto nella pergola della villa dei Shumikin e si annoiava. I suoi poco allegri pensieri fluivano in tre direzioni. In primo luogo, il giorno dopo, un lunedì, avrebbe dovuto sostenere l'esame di matematica sapeva che, se il giorno seguente non fosse riuscito a risolvere il problema scritto, lo avrebbero escluso, poiché era in sesta classe già da due anni e aveva due e tre quarti come votazione annuale di algebra. Secondariamente, la sua presenza a casa degli Shumikin, gente ricca e con pretese aristocratiche, cagionava continue sofferenze al suo amor proprio. Gli pareva che Madame Shumikin e i suoi nipoti guardassero lui e la sua mamma come parenti poveri e parassiti, che non avessero rispetto per mamma e ridessero di lei. Una volta aveva udito, per caso, Madame Shumikin, dire sul terrazzo alla propria cugina Anna Fiodorovna che la sua mamma continuava ancora a ringiovanirsi e a farsi bella, che non pagava mai le perdite di gioco e aveva un debole per gli stivaletti altrui e l'altrui tabacco. Ogni giorno Volodia supplicava a mamma di non andare dagli Shumikin, descrivendole la parte mortificante che la rappresentava presso quei signori. Cercava di persuaderla, le diceva impertinenze, ma quella sventata, viziata, che aveva consumato in vita sua due patrimoni, il proprio e quello del marito, e gravitava sempre verso l'alta società, non lo capiva, e Volodia, un paio di volte per settimana, doveva accompagnarla all'odiosa villa. E in terzo luogo, il giovanetto, nemmeno per un minuto, poteva sbarazzarsi di uno strano e sgradevole sentimento che era del tutto nuovo per lui. Mi pareva di essere innamorato della cugina e ospite della Shumikin, Anna Fiodorovna. Era questa una damina vivace, ridanciana e dalla voce forte, sulla trentina, sana, robusta, rosea, dalle spalle tonde, con un mento tondo e grasso e con un perpetuo sorriso sulle labbra sottili. Non era bella né giovane, Volodia lo sapeva benissimo, ma chissà perché non aveva la forza di non pensare a lei, di non guardarla quando ella, giocando a croquette, stringeva le sue spalle tonde e muoveva la schiena liscia, oppure, dopo lunghe lisate e corse su e giù per le scale, cadeva in una poltrona e, strizzando gli occhi, respirando affannosamente, faceva mostra di sentirsi il petto oppresso e di soffocare. Era maritata. Suo marito, un posato architetto, una volta alla settimana giungeva in villa, faceva un'eccellente dormita e tornava indietro in città. Lo strano sentimento era cominciato in Volodia da questo, che egli senza motivo aveva preso in odio quell'architetto e si rallegrava ogni volta che costui partiva per la città. Adesso, stando seduto nella pergola e pensando all'esame del giorno dopo e a mamà, della quale si rideva, sentiva un gran desiderio di veder Niuta, così gli sciomichi chiamavano Anna Fiodorovna, di udirle sue risa, il fruscio della sua veste. Questo desiderio non somigliava a quel puro poetico amore che gli conosceva dai romanzi e che sognava ogni sera andando a dormire. Esso era strano, incomprensibile. Egli se ne vergognava e ne aveva paura, come di qualcosa di assai brutto e impuro che gli era penoso confessare a se stesso. Non è amore, egli si diceva. Non ci si innamora di donne trentennie maritate. È semplicemente un piccolo intrigo, sì, un intrighetto. Pensando all'intrighetto, rammentava la sua invincibile timidezza, la mancanza di baffi, le lentigini, gli occhi stretti. Si collocava nell'immaginazione accanto a Niuta e una tal coppia gli pareva impossibile. Allora si affrettava a immaginarsi bello, audace e spiritoso, vestito all'ultimissima moda. Nel più vivo delle fantasticherie, mentre tutto curvo e guardando al suolo stava seduto nel cantuccio oscuro della pergola, si udirono dei passi leggeri. Qualcuno veniva senza fretta per il viale. Presto i passi cessarono e all'ingresso della pergola balenò un chedi bianco. «C'è qualcuno qui?» domandò una voce femminile. Volodia riconobbe quella voce e spaventato sollevò il capo. «Chi è qui?» domandò a Niuta entrando nella pergola. «Ah, siete voi, Volodia! Che fate qui? Pensate? Ma come si può sempre pensare, pensare, pensare? A questo modo si può impazzire!» Volodia si alzò e guardò a Niuta smarrito. Ella era appena tornata dal bagno. Sulle spalle le pendevano un lenzuolo e un peloso asciugamano e di sotto al bianco fazzoletto di seta occhieggiavano sulla testa i capelli bagnati appiccicati alla fronte. Veniva da lei l'umido fresco odore del bagno e del sapone alla mandorla. Ansava dal rapido camminare. Il bottone superiore della sua camicetta era sbottonato sicché l'adolescente le vedeva il collo e il petto. Ma perché tacete? domandò a Niuta esaminando Volodia. È scortese tacere quando vi parlo a una signora. Che marmotta siete però Volodia? State sempre a sedere tacete pensate come un qualunque filosofo e voi non c'è vita non c'è fuoco nulla siete antipatico davvero alla vostra età bisogna vivere saltare chiacchierare far la corte alle donne innamorarsi Volodia guardava il lenzuolo che la mano bianca paffuta sorreggeva e pensava e sta zitto si meravigliava a Niuta e perfino strano ascoltate siate uomo beh almeno sorridete antipatico filosofo si mise a ridere ma sapete Volodia perché siete così marmotta perché non fate la corte alle donne perché non la fate è vero qui non ci sono signorine ma nessuna vi impedisce di corteggiarle signore perché per esempio non fate la corte a me Volodia ascoltava in preda penosa e tesa perplessità si grattava una tempia facciano e amano la solitudine solo gli uomini molto orgogliosi continuò Niuta tirandogli via la mano dalla tempia voi siete un orgoglioso Volodia perché guardate di sotto in su vogliate guardarmi dritto in viso ma su via marmotta Volodia si risolse a parlare egli desiderando sorridere contrasta il labbro di sotto ammicò con gli occhi e tornò a stendere la mano verso la tempia io io vi amo pronunciò egli che sento io e la presa a cantare come cantano le artiste d'opera quando sentono qualcosa di orrendo come? che avete detto? ripetete ripetete io io vi amo ripeteva Volodia e ormai senza alcuna partecipazione della sua volontà senza capir nulla e senza riflettere egli fece un mezzo passo verso Niuta e la presa per il braccio più su del polso la vista gli si intorbidì e gli spuntarono le lacrime tutto il mondo si convertì in un grande peloso asciugamano che mandava odore di bagno bravo bravo ed egli udì un'allegra risata ma perché state zitto io voglio che parliate ebbene Volodia vedendo che non gli si impediva di tenere il braccio volse uno sguardo al viso ridente di Niuta e in modo goffo e scomodo la prese con tutte e due le braccia per la vita nel far che le sue due mani si congiungessero sul dorso di lei egli la teneva con ambo le braccia per la vita e lei gettata indietro le mani sulla nuca e mostrando le fossette sui gomiti si aggiustava la pettinatura sotto il fazzoletto e diceva con voce calma bisogna Volodia esser disinvolto amabile carino e tale si può diventare soltanto sotto l'influsso delle compagnie femminili che viso non buono avete però corruzzato bisogna parlare ridere si Volodia non siate un orso voi siete giovane e avrete ancora il tempo di filosofeggiare a sazietà beh lasciatemi andare io me ne vado lasciatemi dunque e la liberò senza sforzo la propria vita e canticchiando qualcosa uscì dalla pergola Volodia rimase solo finisciò i capelli sorrise e andò tre volte da un angolo all'altro poi sedette sulla panchina e fece ancora un sorriso provava un'intollerabile vergogna tanto che si meravigliava perfino che l'umana vergogna potesse raggiungere una tale acuità e forza dalla gran vergogna sorrideva morborava non so che parole sconnesse e gesticolava era vergognoso che poc'anzi lo si fosse trattato come un ragazzo era vergognoso della propria timidezza ma soprattutto di aver osato prendere una donna per bene e maritata per la vita sebbene né per l'età né per le sue qualità inferiori né per la sua condizione sociale né avesse così gli pareva alcun diritto balzò in piedi uscì dalla pergola e senza guardarsi attorno andò nel profondo del giardino lontano il più possibile dalla casa partire di qua al più presto pensava ferrandosi il capo oddio al più presto il treno col quale avrebbe dovuto andar via Volodia con Maman partiva alle 8 e 40 minuti restavano fino alla partenza circa 3 ore ma lui sarebbe stato felicissimo di andare alla stazione subito senza attendere Maman verso le 8 egli si avvicinava alla casa tutta la sua figura esprimeva risolutezza sarà quel che sarà aveva stabilito di entrare arditamente di guardare la gente in faccia di parlare ad alta voce nonostante qualsiasi cosa traversò il terrazzo la gran sala il salotto e si fermò in quest'ultimo per riprendere fiato di lì si udiva come nell'antigua stanza da pranzo stavano prendendo il tè madame Schumich Maman e Nyuta parlavano di qualche cosa e ridevano Volodia si pose in ascolto ve l'assicuro diceva Nyuta non credevo ai miei occhi quando ha cominciato a farmi la sua dichiarazione d'amore e figuratevi mi ha preso persino per la vita non lo riconoscevo più e sapete a certi modi dicendo che era innamorato di me aveva in viso qualcosa di ferino come un circasso possibile esclamò Maman scrociando in un riso prolungato possibile come mi fa ricordare suo padre Volodia tornò indietro di corsa e scappò fuori all'aria fresca e come possono parlare ad alta voce di questo egli si tormentava aggiungendo le mani e guardando inorridito il cielo parlano ad alta voce freddamente e Maman rideva Maman Dio mio perché mi hai dato una simile madre perché ma andare in casa era necessario a qualunque costo fece tre volte un giretto per il viale si calmò un poco ed entrò in casa perché non venite in tempo a prendere il tè domandò severa Madame Shumiki chiedo scusa per me per me è ora di partire e gli borbottò senza alzare gli occhi Maman sono già le otto parti solo mio caro disse languidamente Maman io resterò a passare la notte da Lili addio amico mio lascia che ti benedica ella fece il segno di croce sul figlio e disse in francese rivolgendosi a Nuta somiglia un poco a Lermontov non è vero? congedatosi in qualche maniera senza guardare in viso nessuno Volodya uscì dalla sala da pranzo di lì a dieci minuti già camminava per la strada verso la stazione e ne gioiva ormai non aveva più né paura né vergogna aveva il respiro facile e libero a mezza versta dalla stazione sedette su un sasso accanto alla strada e si mise a guardare il sole e per più di metà si era nascosto dietro la scarpata alla stazione già erano accesi qua e là dei lumi ballenò una piccola luce torbida verde ma il treno ancora non si vedeva per Volodya era un piacere star seduto senza muoversi e tender l'orecchio a sopraggiungere graduale della sera la penombra della vergola i passi l'odore del bagno le risa e la vita di Nuta tutto ciò gli si presentò con impressionante chiarezza all'immaginazione e tutto ciò più non faceva paura né pareva grave come prima bazzecole lei non ha tirato indietro la mano e rideva mentre la tenevo per la vita pensava se le fosse stato sgradito si sarebbe adirata e ora Volodya provò dispetto perché là nella pergola non aveva avuto abbastanza ardire gli rintrebbe di partire in modo così sciocco ed era ormai sicuro che se quell'occasione si fosse rinnovata sarebbe stato più audace e avrebbe considerato le cose con più semplicità e che l'occasione potesse rinnovarsi non era difficile dagli shumiki dopo cena si passeggiava a lungo se Volodya fosse andato a passeggiare con Nuta per il giardino buio eccola lì l'occasione tornerò indietro pensava e partirò domani col treno del mattino dirò che ho fatto tardi al treno e tornò indietro madame shumiki mamma Nuta e una delle nipoti erano sedute sul terrazzo e giocavano al vinte quando Volodya disse loro mentendo di aver fatto tardi al treno si inquietarono al pensiero che il giorno dopo potesse arrivare in ritardo all'esame e gli consigliarono di alzarsi di buon'ora tutto il tempo che esse giocarono a carte egli rimase seduto in disparte esaminando avidamente Nuta e aspettando nella sua testa era già pronto un piano si sarebbe accostato nel buio a Nuta l'avrebbe presa per la mano poi l'avrebbe abbracciata di parlare non c'era alcun bisogno perché tutte e due avrebbero capito tutto senza discorsi ma dopo la cena le signore non andarono a passeggiare in giardino e continuarono a giocare a carte giocarono fino a luna di notte e poi si prepararono per andare a dormire com'è stupido tutto questo pensava indispettito Volodia mettendosi in letto ma non fa nulla aspetterò domani domani di nuovo nella pergola non fa nulla non si sforzava di prendere sonno stava seduto in letto cingendosi con le braccia e i ginocchi pensava il pensiero dell'esame gli era odioso e gli conclusi ormai che l'avrebbero escluso e che in questa esclusione non c'era niente di terribile al contrario andava tutto bene anzi benissimo il giorno dopo sarebbe stato libero come un uccello avrebbe indossato l'abito civile e fumato palesemente e sarebbe venuto lì a far la corte a Newta quando gli fosse piaciuto e non sarebbe più stato uno studente ginnasiale ma un giovanotto e il resto quel che si chiama carriera e avvenire era così chiaro Volodia sarebbe andato volontario o a fare il telegrafista o infine in una farmacia dove sarebbe diventato aiuto farmacista erano forse pochi gli impieghi passò un'ora un'altra ed era sempre seduto e pensava verso le tre quando già albeggiava l'uscio scricchiolò cautamente e nella stanza entrò Maman non dormi gli domandò sbadigliando dormi dormi sono venuta per un minutino prendo solo le gocce perché vi occorrono la povera Lili ha di nuovo gli spasmi dormi bimbo mio domani hai l'esame e la prese in un armadietto una boccetta con qualcosa dentro si avvicinò alla finestra lesse l'etichetta e uscì Maria Liontievna non sono quelle gocce udì Volodia dopo un minuto una voce di donna questo è Mughetto e Lili chiede morfina vostro figlio dorme pregatelo di cercarle era la voce di Minta Volodia si sentì venire freddo infilò in fretta ai calzoni si settò sulle spalle il cappotto e andò verso l'uscio capite la morfina spiegava in un bisbiglio Nuta deve essersi scritto qualcosa in latino svegliate Volodia lui la troverà la mano aprì l'uscio e Volodia scorse Nuta ella aveva indosso la stessa camicetta con cui era andata a bagnarsi i suoi capelli erano spettinati sparpagliati sulle spalle il suo viso assonnato bruno per la penombra ecco Volodia non dorme e la disse Volodia cercate caro la morfina nell'armadio è un castigo di Dio questa Lili ha sempre qualcosa mamma borbottò qualche parola sbadigliò e se ne andò cercate dunque disse Nuta perché state fermo Volodia andò verso un armadietto si mise sui ginocchi e incominciò a cercare fra le boccette e le scatoline dei rimedi le mani gli tremavano e nel petto e nel ventre aveva una sensazione come se per tutte le viscere gli corressero onde fredde per l'odore dell'etere dell'acido fenico e di varie erbe che senza alcuna necessità ferrava con mani tremanti e che perciò si sbriciolavano risolavano a quanto pare mamma se n'è andata pensava questo è bene è bene ci siamo presto domandò con voce strascicata Nuta subito ecco questa mi pare è morfina disse Volodia avendo letto su una delle etichette la parola morf vogliate prendere Nuta stava sulla soglia in tal modo che uno dei suoi piedi era nel corridoio e l'altro nella camera di lui si ravviava i capelli che ravviare era difficile tanto erano folti e lunghi e guardava distrattamente Volodia nell'ampia camicetta assonnata coi capelli sciolti alla scarsa luce che giungeva nella stanza dal cielo bianco non ancora illuminato dal sole parve a Volodia incantevole stupenda affascinato tremando in tutto il corpo e rammentando con delizia come aveva abbracciato quel corpo meraviglioso nella pergola le porse le gocce e disse come siete che cosa e la entrò nella camera che cosa domandò sorridendo e gli taceva e la guardava poi come allora nella pergola la prese per un braccio e lei guardava lui sorridendo e aspettando che cosa sarebbe venuto dopo io vi amo e gli sussurrò e la smise di sorridere e dopo aver pensato un po' disse aspettate pare che venga qualcuno oh questi studenti ginnasiali diceva a mezza voce andando verso l'uscio e guardando fuori nel corridoio no non si vede nessuno tornò indietro dopo di ciò parve a Volodia che la camera Newton l'alba e lui stesso tutto si fosse confuso in una sola sensazione di acuta straordinaria inaudita felicità per la quale si poteva dar tutta la vita e andare incontro ad eterni tormenti ma passò mezzo minuto e tutto ciò dileguò ad un tratto Volodia non vedeva più altro che un viso grasso e brutto deformato da un'espressione di schifiltosità ed egli stesso di colpo sentì il disgusto di ciò che era successo bisogna però che me ne vada disse Newton osservando con aria schizzinosa Volodia che brutto misero ripugnante anatroccolo come parevano sgraziati ora a Volodia i lunghi capelli di lei l'ampia camicetta i suoi passi la sua voce ripugnante anatroccolo pensava dopo che ella era andata via infatti sono ripugnante tutto ripugnante fuori già spuntava il sole cantavano forte gli uccelli si udiva il giardiniere camminare in giardino e stridere la sua carriola e poco dopo si sentirono i muggiti delle mucche e le note di uno zuffolo pastorale la luce del sole e quelle note dicevano che in qualche luogo esisteva a questo mondo una vita pura squisita poetica ma dove di essa non parlavano mai a Volodia né mamà né tutte quelle persone che lo attorniavano quando il domestico lo svegliò per il treno del mattino si finse addormentato beh al diavolo lui è ogni cosa pensava si levò dal letto verso le undici mentre si pettinava davanti allo specchio e guardava il proprio viso brutto pallido per la notte insonne pensò proprio vero un ripugnante anatroccolo quando mamà lo vide e si sbigottì perché non era all'esame Volodia disse sono rimasto addormentato mamà non inquietatevi presenterò un certificato medico Madame Schumichin e Newton si svegliarono verso luna Volodia udì come Madame Schumichin d'estata si aprì rumorosamente la finestra e come alla sua voce rude Newton rispose con scoppi di risa vide come si aprì l'uscio e dal salotto sfilò verso la collazione una filza di nipoti e parassite nel gruppo di queste ultime c'era anche Mamà come balenò il viso lavato ridente di Newton e accanto al suo viso le nere sopracciglia e la barba dell'architetto appena arrivato Newton aveva indosso un vestito piccolo russo che non le andava affatto e la rendeva goffa l'architetto faceva lo spiritoso in modo volgare e pedestre nelle costolette servite a colazione c'era moltissima cipolla così pareva Volodia gli pareva pure che Newton a bella posta ridesse forte e gettasse occhiate dalla sua parte per fargli capire con ciò che il ricordo della notte non la turbava per nulla e che lei non si accorgeva della presenza del ripugnante anatroccolo verso le quattro Volodia andava in vettura con Mamà alla stazione i sudici ricordi la notte insonne l'imminente esclusione dal ginnasio i rimorsi di coscienza tutto ciò suscitava ora in lui una penosa e cupastizza guardava il magro profilo di Mamà il suo piccolo nasino l'impermeabile dato le daniuta e borbottava perché vi incipriate non sta bene alla vostra età cercate di farvi bella non pagate le perdite al gioco fumate il tabacco altrui è disgustoso io non vi voglio bene non vi voglio bene egli la insultava e lei girava intorno i suoi occhietti giungeva le mani e bisbigliava sgomenta che dici amico mio dio mio il cocchiere sentirà taci se no il cocchiere sentirà sente tutto non vi voglio bene non vi voglio bene egli continuava avanzando siete un immorale un insensibile guardatevi bene dal portare questo impermeabile sentite se no lo farò a pezzetti torna in te bimbo mio si mise a piangere mamma il cocchiere sentirà e dov'è il patrimonio di mio padre dov'è il vostro denaro avete sperperato tutto io non mi vergogno della mia povertà ma mi vergogno di avere una madre così quando i miei compagni mi domandano di voi arrossisco sempre in treno prima di giungere in città si dovevano passare due stazioni Volodia rimase sempre sulla piattaforma tremando in tutto il corpo non aveva voglia di entrare nella vettura perché là era seduta la madre che gli odiava odiava se stesso i controllori il fumo della locomotiva il freddo al quale attribuiva il suo tremito e quanto più penoso si faceva il suo stato d'animo tanto più forte sentiva che in qualche posto a questo mondo presso certi uomini esisteva una vita pura nobile calda squisita piena d'amore di affetto di allegrezza di benessere sentiva ciò e ne provavano così forte nostalgia che un passeggero dopo averlo guardato fisso in viso gli domandò perfino probabilmente avete mal di denti eh in città Mamang e Volodia abitavano da Maria Petrovna una signora nobile che aveva a pigione un grande appartamento e lo subaffittava Mamang occupava due stanze una di esse con finestre dove era il suo letto e alle pareti pendevano due quadri in cornici dorate lo occupava lei stessa e nell'altra attigua piccola e buia stava Volodia lì c'era un divano sul quale dormiva e in più di questo divano non c'era alcun altro mobile tutta la stanza era occupata da ceste di vimini piene di vestiario da scatoloni per cappelli e da ogni sorta di ciarpame che Mamang chissà perché conservava le sue lezioni Volodia le preparava nella stanza della madre o in quella comune così era detta un'ampia stanza dove tutti gli inquilini si riunivano all'ora di pranzo e la sera tornato a casa si coricò sul divano e si coprì con la coltre per calmare il tremito i scatoloni per cappelli le ceste di vimini e il ciarpame gli ricordarono che non aveva ancora una camera propria non aveva un rifugio dove potesse sottrarsi a Mamang ai suoi visitatori e alle voci che ora giungevano dalla stanza comune lo zaino e i libri sparpagliati in tutti gli angoli gli ricordarono l'esame a cui non aveva preso parte chissà perché gli venne in testa del tutto a sproposito mentone dove aveva soggiornato col defunto suo padre quando aveva sette anni gli sovvennero biarriz e due fanciullette inglesi con le quali correva sulla sabbia gli venne voglia di rievocare nella memoria il colore del cielo e dell'oceano l'altezza delle onde e il sostato d'animo di allora ma non gli riuscì le fanciullette inglesi balenarono nella sua immaginazione come vive tutto il resto si mischiò si sparpagliò in disordine no qui fa freddo pensò Volodia poi se alzò si mise il cappotto e andò nella stanza comune nella stanza comune stavano prendendo il tè intorno al samovar erano sedute tre persone Maman la maestra di musica una vecchietta colpinsinezza di tartaruga e Agustin Mikhailovich un francese d'età matura molto grasso che era impiegato in una fabbrica di profumi io oggi non ho pranzato diceva Maman bisognerebbe mandare la cameriera a comprare del pane dunia gridò il francese apparve che la cameriera l'aveva mandata in qualche posto la padrona ah ciò non vuol dire nulla disse il francese con un largo sorriso vado subito io a prendere il pane ah non è nulla egli posò il suo sigaro forte puzzolente in un posto bene in vista si mise il cappello e uscì andato via lui Maman prese a raccontare alla maestra di musica che era stata ospite degli Shumikin e quanto l'accoglievano bene colà vedete lì Shumikin è mia parente diceva il suo defunto marito il generale Shumikin viene ad essere cugino di mio marito quanto a lei è nata baronessa Kolb Maman questo è falso disse in tono irritato Volodia perché mentire sapeva benissimo che Maman diceva la verità nel suo racconto relativo al generale Shumikin e alla parente nata baronessa Kolb non c'era una sola parola menzognera ma non di meno sentiva ugualmente che la mentiva si sentiva la menzogna nel suo modo di parlare nell'espressione del viso nello sguardo in tutto voi mentite ripeteva Volodia e picchiò col pugno sulla tavola con tanta forza che tutte le stoviglie tremarono e il tè di Maman traboccò perché andate raccontando di generali e di baronesse tutto ciò è menzogna la maestra di musica si smarrì e prese a tossire nel fazzoletto facendo mostra che il tè le fosse andato attraverso e Maman si mise a piangere dove andare pensò Volodia in strada era già stato di andare dai compagni si vergognava gli sovvennero di nuovo a spropogito le due fanciullette inglesi fece un riro per la stanza comune da un angolo all'altro ed entrò nella camera di Augustin Michalovic lì si sentiva un forte odore di grassi eterici e di sapone alla glicerina sulla tavola sulle finestre e perfino sulle sedie stavano una gran quantità di boccette di bicchieri e bicchierini con liquidi di vari colori Volodia prese sulla tavola un giornale lo spiegò e ne lesse il titolo Figaro il giornale mandava un certo odore forte e piacevole poi prese dalla tavola una rivoltella smettete non fateci caso confortava Maman nella stanza attigua la maestra di musica è ancora così giovane alla sua età i giovanotti si permettono sempre degli eccessi bisogna rassegnarci sì no Eugenia Andreevna lui è troppo guasto diceva Maman facendo cantilena non ha nessuno sopra di sé io sono debole e non posso farci nulla no sono infelice Volodia si mise la canna della rivoltella in bocca palpò qualcosa che somigliava a un grilletto o a un cane e premè col dito poi palpò una qualche altra sporgenza e premè ancora una volta tolta la canna di bocca l'asciugò con la falda del cappotto esaminò il percussore prima in vita sua non aveva mai preso in mano un'arma a quanto pare questo va sollevato rifletteva sì mi pare nella stanza comune entrò Augusta in Mikhailovic e ridendo forte cominciò a raccontare non so di che Volodia tornò a mettersi la canna in bocca la strinse coi denti e premè qualcosa col dito e che già uno sparo qualcosa colpì Volodia alla nuca con terribile forza ed egli cadde sulla tavola direttamente col viso fra i bicchierini e le boccette poi vide il suo defunto padre in cilindro con largo nastro nero chiamentone portava il lutto per una certa signora stringerlo a un tratto con tutte e due le brazza ed entrambi volarono giù in una scurissima profonda voragine poi tutto si frammischiò e dileguò fine grazie a tutti